Start, 2, 1, initial ignition and liftoff! Ho finito il caso del tutorial, infatti mi trovo subito dopo e voglio parlarvi brevemente delle mie prime considerazioni. Primo, l'evoluzione della storia è interessante perché mi hanno sfrattato ed è una cosa che succede nella storia base e ci viene affidato dalla corporazione, della polizia, della sicurezza e delle varie un alloggio gratuito che è una topaia, cioè ci sono addirittura gli scarafaggi per terra. Una delle cose interessanti è che ci viene illustrato la modalità di arredamento. Io ho comprato una doccia perché, cosa che non vi avevo detto, è possibile lavarsi ma al tempo stesso bisogna anche asciugarsi perché poi se puzziamo insomma non facciamo una buona impressione. E quello che si fa qui in questo caso è andare in Edit Decor, nel nostro inventario, Edit Decor e praticamente c'è la possibilità pagando di arredare sia le pareti con carta da parati, i pavimenti e il soffitto, ma non solo perché è possibile mettere item rimasti in giro, insomma, quelle che abbiamo, le note che avevamo nel vecchio appartamento dal quale siamo stati sfrattati. Abbiamo la possibilità di acquistare item, quindi oggettini tipo il calendario e cose varie. Vediamo se c'è... no. E il furnishing dove è possibile... Beh, non l'abbiamo. Nel furnishing praticamente noi possiamo andare a scegliere in base alla stanza e acquistare. Vediamo se abbiamo... non so se si chiama Towel, sì. Io compro questo, vedete, e posso andare a... chiudendo qui, credo. No. Volevo andare a posizionarlo. Vediamo se lo posso comprare. Ok, seleziono. E me lo posso piazzare, vedete? Lo posso ruotare e andare a piazzare. Ed è una cosa molto interessante perché io lo metto qui, lo posiziono e praticamente pago i 30 monete. E vado poi a farmi la doccia. Quindi vedete che poi ho lo status bagnato, quindi posso anche scivolare. E poi vado qui e col destro mi asciugo. Intanto, vabbè, c'è stato un nuovo caso in cui posso andare a investigare. Ci viene assegnato di base. Si possono fare anche dei microcasi guardando le varie baccheche in giro per le case. Ma la cosa di cui voglio parlarvi è il tirare le somme su questo primo caso. Mi è piaciuto, perché comunque non vi dico nulla, ma il primo caso, quello che fate della storia, anche guidato dal tutorial, è assolutamente guidato. Quindi è sempre quello. Quindi non voglio farvi vedere niente. Praticamente, tra i difetti che ho notato, vabbè, la cosa bella è che c'erano anche delle, ovviamente delle piste vicoli ciechi, insomma. Quindi alcune cose potremmo andare a investigare, ma non mi hanno portato a nessuna conclusione. Diciamo, ho incrociato altri dati, tra telefoni, appartamenti, case, documenti d'acquisto. Insomma, ho investigato e sono riuscito a concludere il caso nel modo corretto e assolutamente completo, con tutto. Quindi arma del delitto, le impronte digitali e così. La cosa che ho trovato meno bella, però ricordiamo il gioco sviluppato sempre da una sola persona, è il fatto che spesso potete accedere ad appartamenti continuando a insistere con i residenti, offrendogli via via sempre più denaro. Vi daranno una guest card, quindi la possibilità di investigare per tot ore all'interno. E questo è un peccato perché potete aprirgli tutti i cassetti, da un completo sconosciuto questo viene lasciato, insomma, vi viene lasciato fare. E quindi, grazie a quello, sono riuscito a recuperare le impronte e a trovare l'arma del delitto nella casa appunto che io sospettavo essere la casa dell'omicida. Stessa cosa vale per le impronte. L'assassino, alla fine, mi ha detto, non mi ha lasciato, ma dopo un po' che glielo chiedevo, pagando, mi ha permesso di prendergli le impronte. Alla frase di, beh, se è per un'indagine, boom, prese le impronte, incrociati i dati, trovato il colpevole. Vale la stessa cosa anche per dirmi il loro nome, cioè è tutto acquistabile a soldi. Poi non so se sia una peculiarità di questa ambientazione un po' così, un po' anni 70, 80, ma con implementazioni cyberpunk, perché comunque ci sono dei potenziamenti che voi potete andare a equipaggiare grazie alla presenza di alcune cliniche, una clinica che è quella, la Sync Clinic, quindi qua dentro ci possiamo mettere sul letto e andare a potenziarci. con GetIn posso andare a prendere, installare dei potenziamenti che non ho, oltre che degli aggiornamenti, che sono quei siringoni che abbiamo visto anche nel gameplay. Cioè, vedete, io adesso posso parlare con lui, gli parlo e gli dico qual è il tuo nome, non è personale, e subito dopo vedete che posso dargli 50, se lui non accetta saranno 100, fino a 200, e prima o poi, magari alcuni casi non accettano mai, però grazie a quello io sono riuscito a entrare. Cioè, se questa qui, l'assassino viveva in due, insomma, uno era l'assassino e l'altro no, c'erano due impronte. Io ho chiesto, ho parlato all'altro, quindi ci può stare a livello di trama, ho parlato con il marito e mi ha lasciato entrare. Però è l'assassino stesso che mi ha lasciato prendergli le impronte digitali, e quindi, cioè, è una cosa un po' assurda. E un'altra cosa che magari qui, poi magari è ignoranza mia, ma non ho trovato da nessuna parte, magari poi ci sono delle mappe, magari su come indagare, dove vanno, diciamo, i condotti della reazione, perché ci si muove a caso, poi si inizia anche ad avere freddo, quindi è un po' un casino. O mi scusi. E poi, ovviamente, i bug ci sono e la cosa che ho scoperto è che praticamente non c'è modo di sparare, perché, a quanto ha detto lo sviluppatore, le armi da fuoco provocavano dei seri problemi alla proceduralità, alla generazione procedurale degli ambienti. Altra cosa che posso dirvi è che, ad esempio, per il primo caso di omicidio c'erano le telecamere nell'Atario, ma quelle telecamere non sono accessibili. Strano anche quello. Ogni piano poi ha la sua minigun, la sua torretta, che se ci beccano fra qualcosa ci spara, quindi è una roba un po' assurda, ma ci sta come ambientazione. Però quello che volevo dire è che in quel caso non c'erano telecamere, e io avrei già risolto praticamente il caso subito, avessi avuto accesso a quelle informazioni. Però, per il resto, devo dire che anche l'investigazione con le telecamere è veramente ottimo, perché potete andare a vedere ora per ora le persone che compaiono a schermo, e quindi tracciare, diciamo, chi ha incontrato chi, a che ora e il luogo. Ecco, il peccato è che anche qui io ho esaminato delle telecamere di un posto, di un bar, e non mi lasciavano. A quel punto io ho detto, scusate, ma se io vi pagassi? E mi hanno detto, ok, dai, due ore, puoi fare quello che vuoi. Boom, mi sono seduto al computer, ho consultato le loro mail personali, l'archivio dei dipendenti, il database, le telecamere. È un po' un peccato come immersività, però, ripeto, potrebbe essere tranquillamente il gioco fatto così, l'ambientazione fatta così, il fatto che comunque in questi anni 70, però un po' evoluti, un po' la Blade Runner, siano tutti in mano al vile denaro, quindi, insomma, di cose ce ne sono da dire. Ora è partito un nuovo caso, io ora sono indeciso se ripartire da zero, ora che ho imparato a giocare, ripartire da zero con la generazione procedurale dell'ambiente della città, perché ormai io la mappa la conosco abbastanza bene, e ora mi genererà un nuovo caso, io cliccando qui mi uscirebbe tutta la lavagna, ma non lo faccio perché vi farei vedere i nomi e chi ha commesso cosa, insomma, tutti i nesti logici che io ho fatto. Mentre invece la città, devo dire che questa è una città media, sono un po' di case, insomma, però bene o male ora le conosco, gli edifici sono quei due o tre che vengono citati spesso, in cui andremo spesso, e spesso magari una persona che dobbiamo incontrare per un motivo è nella stessa appartamento di un appartamento incriminato come potenziale location, residenza di un omicida. Però ecco, mi ha fatto davvero impazzire, il fatto di impazzire nel senso mi ha divertito tanto, il fatto di incrociare i dati, investigare sulle telefonate fatte ed esultare quando c'è un match, diciamo, c'è un dato che combacia quanto abbiamo sospettato noi. Questo è un bar e ovviamente vedete che sulla retro ci sono l'accesso, diciamo, per il personale e è anche qua per le telecamere. Ovviamente se io parlassi a lui gli direi posso dare un'occhiata, magari mi fa pagare, mi fa andare e posso parlare e gli dico quanto vuoi per i codici di questo posto? Ti costerà? Cioè sono tutti venduti, ripeto, poi è una cosa voluta magari, io pago 100 e ho acquisito il codice di passaggio che è 9.700, quindi ora a questo punto ho speso 100 e ho 9.700. Quindi io uso il keypad, lo metto già in automatico e posso entrare, però non posso andare qui, quindi io tecnicamente potrei andare a parlare con lui e dirgli guarda ti do 100, 200, quello che è, mi lascia usare il computer che voglio vedere chi è stato qui nei giorni precedenti e anche quello è un po' un peccato. ho bisogno di ispezionare l'ambiente, mi fingo, ok, still going to need a, ok, ho bisogno di un pass, io pago 30, ho il guest pass, a questo punto io posso entrare tranquillamente qui dentro e mi dice guarda quando ti scade devi andartene o pagare di nuovo, io ora sono all'interno, posso fare quello che voglio, cioè posso andare al computer e tecnicamente usarlo e andare a vedere la sorveglianza, vedere la sorveglianza con tutte le riprese, chi c'era, quando, accumulare informazioni sulle persone, taggare dove le vedo, insomma andare avanti con il tempo che comunque va costantemente avanti, ma al tempo stesso posso anche accedere alle mail e vedete posso andare a leggere tutto di questa attività che ha i suoi lavoratori stipendiati con un appartamento, questa è una figata fotonica, cioè il tizio che lavora qui, lui ha il turno di lavoro che poi possiamo scoprire indagando qui nel computer, nelle sue informazioni personali, ma finito il turno va a casa, ha il suo appartamento, al top piano dell'edificio, ha la sua paga, ha magari una moglie, un marito, insomma ha delle cose che fa, insomma ha un mondo suo e lui quando è qui non è a casa, quindi si vive solo, noi scopriamo che vive solo, entriamo in casa, magari ci recuperiamo una copia della chiave di casa ed entriamo e possiamo ispezionare e sappiamo che finisce a quell'ora, quindi ecco, volevo, ci tenevo, per non dare l'idea di essere uno che si entusiasma per niente e non esamina le cose, volevo fare una critica completa a questo gioco che ricordiamo è uscito da pochissimo ed è già una figata fotonica, ma ha dei difetti, ma verrà portato avanti prossimamente con aggiornamenti, quindi insomma bisogna tenerlo d'occhio questo gioco, assolutamente, non costa 20 euro, quindi non costa tantissimo, su Instant l'ho pagato 13, quindi se vi interessa sotto nella descrizione potete notare il link di Instant se volete aiutare il canale, anche perché io non ho alcuna filiazione con lo sviluppatore di questo gioco, io l'ho comprato perché mi piaceva, tra o poi me lo sono preso, ogni tanto mi capita, soffro anche di questo problema, e spero di avervi fatto una cosa grandita, di avervi portato, per avervi portato questo approfondimento approfondimento doveroso su questo titolo, ovviamente tenete conto che è possibile giocarlo anche con una modalità speciale, grazie al canale Viola, è possibile settare che gli spettatori possano diventare fisicamente dei personaggi giocanti in gioco, quindi non giocanti, ecco, PNG, tipo questo potrebbe chiamarsi con il nome di qualcuno che sta guardando la live in quel momento, quella è una cosa molto interessante e il fatto di poter fare live, insomma, su questo gioco mi ispira molto e fatemi sapere anche voi se vi interessa vedere una cosa del genere e con questo io vi saluto, vi invito ancora una volta a lasciarmi un commento sotto riguardo a questo gioco, riguardo alla possibilità di farci una bella live e alla prossima, ciao ciao! Grazie a tutti!